la notte a letto come funziona da qua e allora sai cosa ti dico è la fine del mondo guarda il non plus ultra della sensazione è una forza scatenata della natura con quella faccina arriva tanto fritto è bella legge il contrasto un bambino risolverebbe molte cose finita di essere in due diventate tre persone sposa amante sposa madre sposa sorella capisci dormi no sono morto ma queste punture fanno un male dell'accidente almeno servono a qualche cosa sono estratti ormonici dottore e di solito funzionano faccio vedere io sono diventato vecchio avanti dai dillo dillo che sono diventato vecchio vieni se vuoi di solito 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 di solito